Perché si invecchia e si muore? In noi sapiens le persone più anziane come i nostri genitori o i nostri nonni ci circondano e ci proteggono sin da piccoli ed è arduo molto spesso accettare che un giorno queste persone le perderemo ma ovviamente questo è il cerchio della vita e la vecchiaia è seguita dalla morte un destino ineluttabile al quale andremo incontro tutti quanti prima o poi come i membri di ogni altra specie al mondo noi abbiamo una speranza di vita ma la nostra speranza di vita è peculiare la speranza di vita è una misura usata dagli scienziati per descrivere quanto a lungo in media un membro di una certa specie può aspettarsi di vivere diversi sono i fattori che possono influenzare la speranza di vita fra cui anche il luogo in cui si nasce e in cui si vive infatti le cure mediche disponibili e la qualità del cibo e dell'acqua cambiano da una nazione all'altra e influenzano proprio la speranza di vita noi sapiens comunque abbiamo un'aspettativa di vita più lunga di altri animali e invecchiamo più lentamente pensate che la scimmia che ha vissuto più a lungo ha superato sì 50 anni ma rappresentava soltanto un'eccezione per quanto concerne la sua specie forse il nostro invecchiamento ritardato è avvenuto solo di recente nella nostra storia evolutiva ossia circa 60.000 anni fa ai tempi del grande balzo in avanti con l'arrivo dei cromagnon e quindi del linguaggio l'invecchiamento è sostanzialmente studiato da due gruppi di ricercatori i fisiologi e i biologi e i medici evoluzionisti i fisiologi cercano di capire quali specifici caratteri o quali specifici processi ci fanno invecchiare i biologi e i medici evoluzionisti cercano di comprendere perché invecchiamo l'invecchiamento è un danno oppure un deterioramento che non viene riparato il riparo di norma avviene con dei meccanismi di autoriparazione che sono due il primo è quello del controllo dei danni il secondo è quello della sostituzione regolare di alcune parti un esempio classico di controllo dei danni può essere la guarigione delle ferite ma ci sono specie che possono fare molto meglio di noi come per esempio le lucertole che addirittura riescono a far crescere la coda oppure un altro esempio di controllo dei danni sono gli enzimi di riparo del dna la sostituzione regolare di alcune parti invece del corpo vede come esempi le due dentizioni umane ma ovviamente abbiamo animali che possono avere tantissime dentizioni come gli elefanti oppure anche gli squali che sono animali polifiodonti un altro esempio di sostituzione regolare di alcune parti possono essere la crescita dei capelli oppure il turnover delle cellule degli enterociti degli elitrociti il ricambio delle proteine e così via però ad un certo punto della vita questi meccanismi di riparo si fermano non c'è più riparo perché esso ha un costo sin dal 1500 un condottiero spagnolo cercava la sorgente della vita eterna ossia la fontana della giovinezza lui era juan pons e ancora oggi alcuni scienziati ricercano l'elisir di vita eterna riparare qualcosa se ha effetti negativi su altre parti per la biologia evoluzionistica non ha alcun senso perché i costi sarebbero alti in ogni caso se viviamo di più di molti altri animali è perché chiaramente spendiamo più tempo a autoripararci ma un altro motivo per il quale siamo più longevi è perché soprattutto nelle donne è subentrata la menopausa